Stiamo vedendo in questi giorni, negli occhi delle tantissime ragazze ucraine che lavorano nelle nostre strutture, quale sia la disperazione. Roberto Volpe, presidente URIPA, l'associazione che riunisce l'80% delle oltre 300 residenze sanitarie per anziani del Veneto. Struttura in cui lavorano molte operatrici ucraine, che il dramma della guerra lo vivono sulla loro pelle. Ucraine come moltissimi assistenti familiari. Dai loro occhi, dalla loro paura, nasce l'idea di avviare una raccolta fondi destinata agli anziani non autosufficienti che vivono in case di riposo o nelle famiglie e che dal paese martoriato non potranno scappare. Credo nessuno meglio di noi può immaginare in quali situazioni si trovano gli anziani non autosufficienti che ci sono anche in Ucraina. Quindi noi abbiamo pensato di fare un qualcosa per loro che sono costretti a rimanere lì e che sicuramente non potranno essere spostati. E anche agli anziani che in una condizione di assoluta mancanza di autonomia o di possibilità magari sono rinchiusi nelle case. Due euro a posto letto la richiesta che Uripa indirizza a tutte le strutture del Veneto già approvate dal lungo periodo della pandemia. Una raccolta fondi allargata a chiunque voglia contribuire. Grazie alla collaborazione con la regione da Uripa un impegno. Una volta raccolta la somma di cui daremo anche rendiconto pubblico è quella di versarla nei conti correnti delle strutture per anziani non autosufficienti che ci indica l'ambasciata ucraina in Italia.